Si può ripartire, di piedi sta in piedi ecco come si vuol dire, adesso il cross, smanaccia il portiere in tuffo, tiro di Filicò a cercare il primo palo, la palla sfiera il montante, arriva tutta la palla con le mani in tuffo il portiere del Castrovilleri. Castrovilleri va a prenderlo Cordiano che poi di piedi si aggancia la maglia di Cordiano ma riesce a stare in piedi e Clasadonte chiedo scusa, Clasadonte che rinviene, prova a scambiare con Cosa, palla di ritorno di Cosa sbagliata, cade a terra Chiricò. Perde palla, Cordiano al centro del tre quarti della via della mezza, prova per Chiricò che effettua un grande lancio, dove a terra fatica un giocatore del Castrovilleri riesce a recuperare, lancio in avanti ancora. Gioca il Castrovilleri in cerca del pareggio, attenzione a Giacco, giocatore desperto, lascia al numero otto del Castrovilleri. Di Clasadonte, corto, viene rinviato, attenzione c'è una gamba tese su Cordiano. Contro a battere Lio, in area di rigore, il limite dell'aria spazza Capasso, va a recuperare la palla a Rondinelli, lascia a Chiricò, Chiricò guarda l'area di rigore, di sinistro a occhi pinti, corto per Cordiano, avanza la vigore della mezza, sinistra per T-Day, va incontro alla palla a Tonni Lio, preferisce a Cordiano, non fa più il pressing asfissiante come nei primi minuti, il Castrovilleri, la vigorezza, la libertà di manovra. Attenzione adesso, azione di Lio, viene spinto al limite dell'area, è solamente il giocatore del Castrovilleri, ma è stato una spinta più che un cazzo.